Buongiorno, benvenuti da G3Moto, siamo qui a presentarvi oggi la Laminator 2, la nuova arrivata dell'italiana Glomer. Questa giacca è un doppio strato, laminata, appunto laminata si intende che la membrana impermeabile è direttamente accoppiata allo strato esterno della giacca in modo da rendere oltre che impermeabile idrorepellente. Abbiamo protezioni su spalle e gomiti di livello 2, certificata EAA, ultraventilate. Abbiamo all'interno giubbino termico removibile e reversibile, appunto da essere utilizzato anche al di fuori della moto. Sono presenti sistemi di regolazione sui fianchi, sulle braccia tramite bottoni, tramite cinghia regolabile, anche è presente una zip di regolazione sul fondo della giacca. Quanto riguarda la ventilazione, sono presenti due ampi pannelli frontali, apribile e richiudibile in questo modo. Qua abbiamo il pannello 3D in mesh, appunto molto traforato. L'acqua in questo modo qui non può penetrare all'interno della giacca, appunto per questa caratteristica che la fa defluire all'esterno. La parte posteriore è dotata anche lei di un'ottima presa d'aria, sempre a pannello, completamente apribile, così e si può appunto richiudere in questo modo. Per quanto riguarda la capacità di stivaggio abbiamo un tascone posteriore, per quanto riguarda invece l'anteriore abbiamo quattro tasche e sono presenti anche due tasche Napoleone all'interno. Questa giacca è disponibile in due colori, sia uomo che donna e aspettiamo provarla nel nostro store.